Nativa di Ostia, dopo una notevole carriera teatrale, divenuta ormai celebre in quell'ambiente, e con un bagaglio recitativo pressoché impeccabile, passò da prima alla televisione e poi al cinema, confrontandosi con ruoli da caratterista. Partecipò ad un gran numero di prova televisiva, tra gli anni 50 e gli anni 80. Prese parte inoltre a sceneggiati e miniserie tv di successo. Caratterista molto vivace e preparata. Interpretò con notevole e brio ruoli anche nei film con Lino Banfi come, L'infermiera di notte e L'infermiera nella corsia dei militari del 1979. Nel 1993, ormai anziana, rappresentò un'opera intitolata Le Presidentesse, dell'austriaco Werner Schwab, con il quale polemizzò durante la performance, nell'ambito del Festival di Taormina, per la reggia di Walter Manfred.